Sarà pronto all'inizio del 2024 il nuovo polo scolastico di Inveruno realizzato in via 4 novembre grazie a un finanziamento milionario dell'Unione Europea risalente. A ben prima dell'arrivo del PNRR, cosa che fece del Paese, l'esempio di come accedere e spendere i fondi europei anche nelle piccole comunità. Ha completata la parte strutturale degli edifici, ora si sta procedendo con l'installazione degli impianti e con le procedure per l'acquisto dei serramenti. L'obiettivo è quello di chiudere il cantiere entro gennaio al massimo a febbraio, ma le classi si trasferiranno a partire dal settembre 2024 per l'inizio, quindi dell'anno scolastico 2024-2025. L'ultimo step sarà quello della posa dei pavimenti in legno di rovere, ad eccezione dei bagni e della mensa, dove verrà messo del gress porcellanato, discorso a parte, per le palestre nelle quali la pavimentazione seguirà le prescrizioni del CONI. Anche se in comune trape la soddisfazione per il cronoprogramma dei lavori che rispetta le tempistiche iniziali, tutti gli amministratori stanno tenendo un profilo basso. L'obiettivo non è quello di lodarsi sui social, ma di lavorare per fare in modo che davvero nell'anno nuovo i ragazzi possano trasferirsi nella nuova scuola. Il traguardo è all'orizzonte e la giunta è concentrata per fare in modo che l'ultimo tratto di strada venga messo al riparo da problemi o complicanze dell'ultimo minuto. E a proposito di lavori pubblici, si stanno completando anche gli ultimi interventi di efficientamento energetico nella scuola primaria sulla palestra della frazione di Furato. In questi anni sono stati ottenuti e spesi 350.000 euro, oltre ai 2 milioni vinti già prima del Covid, per poter realizzare il nuovo polo scolastico di Inveruno.